Per il Jova Beach Party di Barletta, per cui sono attesi oltre 50.000 spettatori questo weekend, in città è stata creata una grande area di parcheggio nell'ex cartiera di Via Trani, sulla Litorania di Levante. Disponibili posti riservati a biciclette e motocicli e due grandi parcheggi per automobili, bus e minibus. Il parcheggio custodito e illuminato sarà aperto dalle 9 di sabato 30 luglio. 50, le navette che faranno la SPOL, si alterneranno per accompagnare gli utenti dal parcheggio all'area del concerto. La maggiore criticità che dovremo affrontare, per cui siamo preoccupati, è quella del deflusso e soprattutto nel momento dell'imbarco sugli autobus per riportare i visitatori al parcheggio, ha detto il sindaco Cosimo Cannito. Credo che abbiamo preso tutte le misure necessarie affinché si arrivi con meno disagio possibile. Per quanto riguarda la sicurezza, inoltre la ASLBT ha avviato una serie di procedure come servizi di assistenza territoriali d'emergenza dedicati, spazi riservati nei presidi ospedalieri, organizzazione del personale in servizio, attività formativa specifica. A servizio dei partecipanti ci saranno 7 ambulanze, 3 postazioni mediche avanzate, il 10% dei posti letto dedicati, una sala operatoria libera delle unità operative e chirurgiche degli ospedali di Andria e Barletta, la pronta disponibilità pomeridiana e notturna per farmacisti ospedalieri, oltre al potenziamento delle scorte di sangue ed emoderivati. Inoltre la ASLBT ha attivato anche due corsi di formazione destinate a 50 persone, tra presidi ospedaliero e operatori del 118, con l'obiettivo di uniformare le conoscenze sulla medicina di emergenza. Il Jova Beach Party potrà definirsi in ultimo un evento cardioprotetto, con il servizio di assistenza formato da 11 operatori sanitari. Per Barletta, ha detto ancora il primo cittadino, questa sarà un'ottima opportunità dal punto di vista economico e della visibilità. Per questo abbiamo anche previsto di creare un momento di opportunità di riconoscimento della città. Ci sarà uno sconto per chi volesse visitare i nostri monumenti presentando il biglietto del concerto. E a proposito di sconti, per chi viaggerà con frecce e intercity di Trenitalia verso il Jova Beach Party, potrà avere il 50% di sconto con il codice GBP 2022 al momento dell'acquisto. È l'offerta messa in campo da Trenitalia, official green career dell'evento. Questo weekend da e per la città della disfida ci saranno oltre 6.000 posti offerti a bordo dei trani regionali, a partire dal primo pomeriggio fino a sera, che consentiranno di raggiungere l'evento senza lo stress del traffico e della ricerca del parcheggio. Per il ritorno sono in programma due trani regionali straordinari, in partenza da Barletta a lune 45 di notte, con 800 posti disponibili in direzione Bari e 650 posti verso Poggia. Il viaggio a bordo di questi treni è limitato al numero dei posti disponibili. Per questo Trenitalia consiglia di acquistare per tempo anche il biglietto per il rientro.